Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Kate Middleton ha completato il suo ciclo di chemioterapia e ha condiviso la notizia sui social media, esprimendo sollievo e felicità. La consorte del principe William ha descritto i nove mesi passati come estremamente impegnativi a causa della sua battaglia contro il cancro. Ha sottolineato come questa esperienza abbia trasformato la sua percezione del mondo. La principessa ha parlato della sua lotta contro il cancro come di un viaggio spaventoso che porta a una significativa trasformazione. Ha riflettuto sull'importanza della vita e sull'apprezzamento delle piccole cose, sottolineando che nulla dovrebbe essere dato per scontato. Nonostante la positività delle notizie dal punto di vista medico, Kate Middleton ha dichiarato che la sua priorità attuale è rimanere libera dalla malattia e che il percorso verso la guarigione sarà lungo. Riprenderà gradualmente i suoi doveri pubblici, monitorando attentamente la sua salute. La principessa ha ringraziato il marito William per il suo costante supporto durante questo periodo difficile e ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto da molte persone. Ha inviato un messaggio di solidarietà a coloro che stanno lottando contro il cancro, incoraggiandoli a trovare la luce nell'oscurità. Kate Middleton ha concluso il suo annuncio con un messaggio di speranza e di unità, mostrando la sua determinazione nel combattere la malattia e nel tornare gradualmente.